Musica Bentornati su Fear 2 Siamo ancora qui con il nostro protagonista Un pochino mal ridotto Dalle ultime botte che gli sono arrivate L'abbiamo trovato chi Chi Addio amici Vi volevo bene Beh in realtà no Ok abbiamo eliminato Due nemici del cazzo Che erano stupidi Sono rimasti a farsi uccidere come dei beotti Ok ho fatto un giro inutile Buona sapersi qua c'è un computer Che io ovviamente non leggerò E andiamo avanti Allora mi servirebbe un giobotto antiproiettile Perché qua francamente la mia vita Vorrei cercare di tenerla Più lunga possibile In tutti i seri Ok non vedo un Cazius Eh già Raga Watchdog Ha gli specchi che non riflettano Eh già Allora Chi c'è qua dentro Chi c'è qua dentro Nessuno Buona sapersi Che cazzo Fottiti Mi ha fatto prendere un colpo Ok andiamo in culo delle donne Alma 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 Niente Ok ci ho provato Ok non stiamo a prendere tempo Andiamo avanti Ti attiviamo anche la torcia Che qua la batteria Ma Che cazzo è stato Per un attimo l'ho visto E poi non l'ho più Ehm What Amico Stai bene Non credo Cioè Prima mi stavi mirando Con il fucile Adesso O eri tu Ok Volano Vaffanculo Mi stai Antipatico Apresci Mokis Ma tu Non è santo Tu che cazzo Vedo me E tu Ti ho visto eh Anche tu Tu Sei sbucato da nulla Ti ho colpito anche per sbaglio Scusami co Vieni Comincio ad adorare seriamente le granate Ho sentito dei rumori Provengono da di qua Ma Ehi Ma io non ti ho ucciso Tu come sei morto Ok Qui abbiamo un altro kit medico Quindi mi sono curato Buongiorno Ti ho visto amico Che bello schizzo di sangue che hai fatto Ti ho proprio spopolato nel vero senso della parola Credo che quella sia una tua gamba No questa è un'altra gamba Ok Aspettate qua Non è che eravate in tre Uno l'ho proprio spopolato completamente Vabbè non facciamoci domande Andiamo avanti Beh siamo a bisogno di un dottore Di sicuro qui non ne trovo nessuno Quella era una simpatica persona Di sicura era simpatica Qui c'è un po' di gente che Oddio comincio ad avere Seri Come cazzo si è morto Sai lì problemi di droga Il che non è positivo Cos'è la festa della salciccia qua Tutti morti Cioè Buongiorno Tranquillo ti salvo io Mi dispiace mostro Ne ho uccisi tre E tu uno solo Ho vinto la battaglia Ho vinto la battaglia Mi dispiace Sono più forte di te Ma Ok va bene Me l'hai stilato Bravo Sei stato bravo Me l'hai stilato Nice Qua non si va Però smettere di portarti via i corpi Cioè poi diventa difficile Contare Le tue uccisioni dalle mie Ok Credo che questo ascensore Ah funziona Amico T5 Uff Ok Andiamo avanti va Che piano sto andando Al secondo piano Ok Ok Adesso che parlavo con Disney The first of the make Allora Perché mi hai visto il let's play Vaffanculo Stavo dicendo Perché hai visto il let's play Di Fear 3 Sa che siamo davanti A un punto molto particolare E molto importante Per la trama di FI I A AR Amico Che cazzo Amico Amico Non sei divertente Non sei divertente Neanche un po' Se fai così Non possiamo più giocare Ah ma Ah ma Hai dei fratelli Ah ma Finora imbrogliato Figlio di puttana Comunque Se vi ricordate Da Fear 3 3 Vediamo se mi lasciano parlare Ma do Da Fear 3 Posso? Grazie Questa qua È la stanza dove Stanno i Due fratelli O almeno quella che Teoricamente dovrebbe essere quella Perché da sopra Sembrava La stessa stanza Cioè Notare che andando nei giochi Più vecchi degli ultimi Si scoprono robe Interessanti Ma forse dovremmo Averso Per il tunnel track E questa qua Era la stanza Dove facevano gli sperimenti Ma non importa Non è importante La cronologia Ma adesso sappiamo Che è lo stesso posto E qui non si va Da nessuna cazzo di parte Decisamente no Comunque finalmente Abbiamo iniziato a trovare Dei mostri da combattere Ok Madonna Togliti Via dalle palle Voglio passare Grazie Ciao amico Ok Fa male credo Ma noi continuiamo Nella prossima parte Di Fear 2 Qui da scene Tutto E al prossimo video Ok Grazie 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 Grazie